Taglio del nastro per la nuova sede aquilana della Fondazione Magna Carta presieduta da Gaetano Quagliariello. L'inaugurazione dei locali in via Amleto-Cencioni non è arrivata in un momento casuale, cadendo invece proprio in occasione dei 20 anni dall'inizio delle attività della Fondazione Magna Carta. La decisione di aprire una nuova sede nel capoluogo d'Abruzzo va a rafforzare l'idea e la strategia che la Fondazione Magna Carta, guardando all'Aquila, ha messo in campo già da diversi anni, ossia fare della città un laboratorio di pensiero sì, ma anche di azione, sulla tema della valorizzazione delle città medie e del recupero delle potenzialità dei territori delle aree interne. Magna Carta è una fondazione nazionale, esiste da 20 anni, non ha sedi locali, non ha nemmeno una sede a Milano e a Napoli, dove pure si fa attività, ha sede all'Aquila, oltre che a Roma. E questo per una ragione precisa, perché per noi l'Aquila è il laboratorio di una filiera importante di pensiero. Noi abbiamo bisogno di un Paese che sia distribuito meglio, che rassomigli sotto questo aspetto di più alla Germania che alla Spagna, cioè che non veda le popolazioni concentrate in pochissime aree e tutto il resto deserto. E abbiamo bisogno, e qui appunto l'Aquila è importante, di una spesa che risponda alle domande che vengono dai territori. E questo è un tema centrale oggi col PNRR. Ecco, su queste cose, su queste cose su cui hanno riflettuto in tanti, hanno riflettuto persone come Pastore, come Derita, come Segrebondi, eccetera, l'Aquila è per noi la capitale. Magna Carta, come l'impero austro-ungarico, ha due capitali, una è Roma e l'altra è l'Aquila. E questo filone andrà avanti, anche perché Magna Carta ha lavorato sul fondo complementare per il cratere del 2016. E crediamo che quello sia un esempio paradigmatico. Non lo abbiamo fatto da soli. L'abbiamo fatto con altre strutture di quello che oggi si chiama il terzo settore. Ed è stato un successo. Questa formula, diciamo così, non solo sinergica, ma direi che questa forma di coinvolgimento delle strutture che stanno sul territorio deve essere assolutamente ripetuta.